Guardate che mare signori, sempre più bello, sempre... ma che cos'è? Che cos'è? Chi è? Ma è sempre lui! Io sono il mega presidente assoluto della Playstation! 15 a 2 capote è il risultato del riportino maledetto inferiore! Signore... No! Ed è confermato! Il presidente è confermato per altri 10 anni! Ciao! Abbiamo scoperto chi era! Un losco individuo che si crede il presidente ma non è vero! Perché io sono il regista e basso! Ciao! 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 Grazie a tutti.